Il modo con cui oggi Riviera Acqua gestisce la rete idrica andorese è semplicemente imbarazzante. Il sindaco Mauro De Micheli scondanna la società che gestisce acquedotto e fognature, anche se i recenti breakout idrici nel Golfo d'Anese hanno risparmiato il compressore andorese. Ma situazioni gravi si sono verificate anche nel suo comune. Da ricordare ad esempio l'ordinanza emessa a ridosso di Ferragosto per lo sversamento in mare di Liquami. La città di Andorra in questa vicenda sottolinea apertamente il sindaco e parte l'ESA. I danni al nostro territorio e alla nostra comunità, che si basa sul turismo, sono stati notevoli anche d'immagine. A due anni dall'affidamento del servizio a Riviera Acqua non possiamo certamente ritenerci contenti, siamo irritati. Il tempo dell'apprendimento è finito, se la società non è in grado di gestire si faccia da parte per il bene dei cittadini andoresi. Concetti che De Micheli ha rispolverato anche nel recente Consiglio Comunale. Non ne facciamo un mistero, Riviera Acqua stava volando male, ma i cittadini lo devono sapere. Oggi i nostri tecnici comunali non hanno neppure le chiavi per aprire i tombini e controllare perdite o guasti. A me non resta altro da fare che scrivere e denunciare situazioni incresciose alla società imperiese, ogni qual volta che si presenta un problema.